Buongiorno a tutti i nostri tre spettatori e tifosi dell'Udinese e agli amici che ci seguono da casa. Siamo qui per le prime parole da calciatori dell'Udinese al nostro canale ufficiale di Isaac Success e Neuen Peretz. Quindi innanzitutto gli diamo il benvenuto, ma come sempre, prima di partire con le domande di Lorenzo Pausa e ragazzi, andiamo per la canonica introduzione con il nostro responsabile dell'area tecnica, il direttore Pierpaolo Barino. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere qui stamattina a presentare due importantissimi acquisti dell'Udinese. Naturalmente si tratta di Isaac Success e di Neuen Peretz. Sono particolarmente felice perché si tratta di due giocatori che daranno sicuramente un contributo importante alla causa bianconera. Uno è giovanissimo e viene dall'Atletico Madrid, ma ha una carriera di cui vi voglio parlare dopo. E l'altro è un attaccante di notevolissime potenzialità che avrà l'opportunità con l'Udinese di poter mettere a frutto tutte queste potenzialità che ancora solo in parte ha espresso nella sua carriera. Partiamo proprio da lui, vero Jacopo? E devo dire che Sassès è un attaccante moderno, con grandi potenzialità fisiche e tecniche. Gli ho visto fare dei gol di sfondamento, ma anche dei gol di grande, di notevole importanza tecnica. Può giocare indifferentemente da prima punta, ma anche da punta esterna. E sono felicissimo perché penso che si sposerà molto col modulo di gioco di Gotti, che prevede anche spesso delle transizioni molto veloci. E in questo Isaac è un giocatore che sa farsi valere molto, ma molto bene. Quindi gli faccio i complimenti, lo ringrazio di aver scelto l'Udinese perché erano due anni che cercavamo di portarlo a Udine dal Watford. E quindi gli voglio augurare una felicissima permanenza qui e tutti i sogni che ha e che si possano realizzare. Grazie mille, grazie mille direttore. Iniziamo allora subito con le domande per i nostri ragazzi, a partire da quelle per Neu e Perez. No, volevo, scusami, io siccome volevo dare la precedenza... No, è vero di mio, per Sakses. Volevo dare la precedenza per età. E poi devo dire qualcosa di particolare su Perez. Ok, cominciamo allora con Isaac Sakses, che è già nell'orbita bianconera, si può dire da parecchi anni, perché ha avuto esperienze precedenti con il Watford e anche con il Granada. Già in quegli anni si parlava di te, Isaac, come un possibile predestinato. Poi negli anni successivi ci sono stati degli infortuni che magari hanno un po' frenato quello che poteva essere il tuo massimo potenziale. Ti chiedo quanto hanno pesato nello sviluppo della tua carriera e quali sono i tuoi obiettivi personali in questa stagione? What kind of advice do you have for this season? Oh, thank you. I'm the two clubs that I played previously. They are club that I always welcomed me from the ones since I arrived there. And I think I fought my way through the years with them. And I've given everything. And being here in Udine is something that I wouldn't want to try. l'Italia Sirari, perché volevo provare qualcosa di diverso e mi piacere in un modo diverso. Sono felice di essere qui. È stato meno di due settembre che ho arrivato. Mi sento già a casa perché ho conosciuto alcuni dei giocatori. Ho parlato con loro prima di venire e mi ha fatto piacere. È stata una grande parte della ragazza di cui ho venuto. Non posso aspettare di cominciare. Qui tutti hanno parlato estremamente bene dell'ambiente e della società. Quindi per lui è una grande sfida. È una grande sfida perché voleva provare qualcosa di nuovo e voleva veramente vivere questa esperienza all'Udinese. Ti chiedo anche quale ruolo preferisci, in quale ruolo ti trovi meglio in fase offensiva. che vuol dire che per il manager, il manager deve essere felice di avere. Perché potrei venire dalla linea, potrei giocare al centro-forward, dipendendo su quale formazione il manager vuole giocare. E se lo sento è piaciuto e non per lui per giocare. Penso che sono pronti per giocare in ogni posto. Ha fatto una battuta all'inizio dicendo che il mister deve essere felice di avere la disposizione perché lui può garantire molta utilità. Può partire sia dalla fascia ma sia giocare come attaccante centrale. E pensa che lo stile di gioco di Gotti possa adattarsi molto bene anche alle sue caratteristiche e pertanto lui è a disposizione per entrambe le posizioni. Ok, passando a Neu e Perez invece... Aspettiamo, lasciamo allora che il direttore lo introduca e prendiamo le domande. Ci tengo a presentare Perez perché Perez è un ragazzo giovane, ha 21 anni, ma è un ragazzo che si comporta già da giocatore fatto. È come se fosse un giocatore con anni di esperienza. Ha una personalità notevolissima. quello che mi colpisce di lui non solo la capacità di farsi valere in chiave difensiva, ma anche quella dell'impostazione del gioco dove nel guardarlo e nello studiarlo ho visto che ha un piede destro che delizia spesso la platea e la propria squadra con lanci di precisione a 30 metri liberando all'improvviso giocatori nella fase offensiva che nessuno avrebbe mai pensato si potessero liberare. Quindi vi voglio fare veramente i complimenti. Sapete che viene ad allargare il novero degli argentini arrivati a Udine che hanno fatto sempre tutti bene e allarga anche la schiera degli argentini presente adesso. In più mi è molto caro perché lui si è formato nell'Argentinos Junior che è stato il club che ha dato i natali sportivi calcistici a Diego Armando Maradona ed è un club che sui settori giovanili ha raffinatezza nella selezione, nella scelta per cui è quasi un bollino di garanzia venire dall'Argentinos Junior e poi essere anche approdato alla Granada all'Atletico Madrid. Io penso che con lui abbiamo fatto un notevolissimo acquisto, un grande investimento e sono felice perché vedo nei suoi occhi proprio la luce, la brillantezza di quelli che faranno strada nella vita. È una sensibilità che riesco ad avere ora guardando i calciatori negli occhi e ci darà grandi soddisfazioni in qualunque ruolo lo vogliamo impiegare perché sicuramente gli farai questa domanda ma lui è duttilissimo e come s'assesse in attacco lui in difesa può fare tutto ed anche giocare da quinto nel reparto difensivo da quinto a fianco ai tre centrali sulla destra. Quindi felicissimo di questo arrivo e gli auguro veramente in questi due anni che starà sicuramente con noi di fare grandissime cose. Grazie mille, grazie mille al direttore. Possiamo adesso partire con le domande per Neuen. Neuen, prima di tutto qual è stata la molla che ti ha portato a scegliere di venire qui a Udine? Grazie mille al direttore. come il corpo tecnico tuve compagni che stavano qua come Rodri che mi ha parlato molto bene del club ho parlato molto con lui e mi ha parlato molto bene del club mi ha detto che mi ha aiutato a crescere deportivamente e questo è quello che ha fatto che io tome la decisione ho appreso questa scelta perché principalmente il club ha dimostrato tanto interesse ha parlato anche per domandare a Rodrigo Le Paul tante volte lui ha detto che se arriva qua a Udine sarà un step up sulla sua carriera quindi per quello ha scelto l'udinese ti chiedo anche quali sono secondo te le tue caratteristiche tecniche dove puoi fare maggior leva e in particolare in quale posizione preferisci giocare se centrale o più laterale sono un jugador con personalità come deve essere un defensor central anche mi piace molto mi sento comodo quando mi dann la salida del ballone mi sento molto più mi sento molto comodo quello che decida il mister per lui sarà bene tanto come il role difensivo centrale anche nell'uscita della pala lui si trova comodo quindi lascia tutto nella mano del manager ok altre due domande per success visto che sei arrivato a Udine qualche giorno prima rispetto rispetto a Neuen hai già ottenuto la tua prima panchina anche in campionato qual è stato il tuo primo impatto con la squadra e visto che hai detto che hai già iniziato a familiarizzare con alcuni giocatori e ti chiedo anche quali in particolare con quali ti sei trovato meglio in questi primi giorni è sempre una buona cosa come un professionista o come un sportman sempre andare in un'altra che ti chiedi mi senti davvero quando arrivavo qui e ho avuto un paese per il team tecnico comunicato quando mi sono venuto perché mi è venuto perché mi è venuto e questo mi ha fatto molto confidence e voglio veramente venuto perché mi è venuto a un paese dove mi è venuto quindi quando mi è venuto qui ho visto in me che è stato incitato perché è stato un'attro due a l'injury che non è stata un'attro e non è stato un'attro di team Quindi i miei primi giorni sono già parte della squadra e abbiamo vinto il gioco, è un buon sentimento per me e voglio vedere myself nel gioco nel prossimo gioco e ottenere i tre punti di nuovo. I comparti della società, dal club ma anche dallo staff e dagli ex compagni di Watford questa grande voglia di averlo qui e per questo lui è voluto venire ad ogni costo all'Udinese perché ha percepito che dall'altra parte tutti avevano grande voglia di volerlo venire in campo. Chiaramente l'anno scorso lui ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo però tutta l'estate con Watford si era già allenato, quindi lui è arrivato qui e immediatamente ci teneva lui stesso ad andare subito in panchina e poi la cosa più importante è che è arrivata una vittoria per il Venezia. Lui da quel momento si è subito allenato in gruppo con la squadra regolarmente e ha grande voglia di mettersi a disposizione e di giocare già nella prossima partita contro lo Spezia dove spera che arrivino altri tre punti. Ti chiedo anche se hai un obiettivo per questa stagione in fatto di gol e assist e magari di arrivare in doppia cifra. Come stagione come stagione in gruppo con la squadra regolarmente? Come stagione in gruppo con la squadra regolarmente e così fortale. E' chiaro che un attaccante vuole sempre segnare o regalare assist ai compagni ma la cosa più importante è essere funzionale alla squadra, come si aiuta la squadra. Quindi sicuramente se mi dici vuoi segnare e aiutare la squadra a vincere certo che domande assolutamente sì però se in una partita magari non c'è un suo gol ma aiuta la squadra in una maniera diversa non è uno sport individuale. Quindi l'importante è sempre raggiungere i risultati di squadra. Neuen, come sai nell'Udinese ci sono tanti argentini in squadra, Molina, Bussetto, Forestieri, insomma un bel nucleo. Per Eira? E anche per Eira ovviamente il tucu. Sei contento che ci siano tanti connazionali in squadra e ti chiedo anche quanto possano essere d'aiuto per un tuo completo inserimento in squadra? Ovviamente sempre è importante che siano argentini, già li conosci a loro, al tucu di la selezione con Nahuel venia parlando e è molto importante perché ti fa sentire già dentro del gruppo e non ho avuto con l'entrenare, non ho avuto con l'entrenare e non ho avuto con Nahuel, che è molto importante il gruppo e bene, ma poi l'equipo mi ha ricevuto molto bene e sono molto contento di poter essere qui. E' molto contento di aver trovato questi nuclei argentini, anche ha detto che prima di cominciare l'allenare, ha fatto una cena con Nahuel, quindi si è inserito benissimo con la squadra, non solo con il nucleo argentino, sino con tutta la squadra. Quindi lui si trova bene e per lui è importante questa situazione. Sei stato anche capitano nella nazionale Under 20, questa esperienza potrà esserti anche qua uno stimolo, un aiuto per diventare successivamente anche un leader, un trascinatore dell'Udinese? Sì, ovviamente, stare aca è molto importante in questa liga tan competitiva che sempre si risaltò per gli buoni defensori che avevo. Anche prima di arrivare, il Cholo mi ha parlato di questo, che venga aca, che mi va a servire molto, e la verità è che sto molto contento. E questo è un salto importante in mia carriera, così che devo approfittarlo al massimo. E voglio dare tutto per lasciare una huella importante aca in Udinese. Certamente sì, in questa liga Serie A ci sono difensori veramente buoni, quindi anche l'ha parlato Simeone, le ha detto lo stesso, che approfitte questa esperienza perché sicuramente diventerà un grandissimo calciatore. Isak, l'anno prossimo ci saranno i mondiali, anche per te può essere un obiettivo quello di partecipare con la nazionale nigeriana? Of course, ogni giro che vuole aca in un grande stagione, e ovviamente è il mio sogno di essere in la città, ma non c'è pressione perché voglio fare cose una cosa dopo l'altra, e ora sono qui con il mio team. Io voglio concentrarmi nella città e aiutare la città come posso, prima della città della città, e vedere cosa viene dalla città della città. Un'ultima domanda anche per Neuen, il campionato italiano ha caratteristiche diverse rispetto a quello spagnolo, ti chiedo se sei pronto adesso ad affrontare questa Serie A. Ovviamente che sì, stai listo, e stai con molta ilusione, con muchas ganas di ponermi la camiseta e salire alla cancia, e bueno, e dimostrarle toda la confianza che mi dieron i dirigenti, il corpo tecnico, e bueno, e dimostrare alla cancia, ma che nada. Certamente, lui si trova pronto per cominciare questa Serie, non solo pronto, sino anche con la voglia di cominciare, vistendo la maglietta dall'Udinese, e poter divolvere a tutte le staff, anche i dirigenti, quello che hanno messo sopra lui. C'è anche un difensore, in particolare dell'Udinese, o anche di altre squadre italiane e internazionali, da cui prendi ispirazione, magari anche per migliorare qualche fondamentale nel cui pensi di poter fare un passo in avanti? No, però ovviamente che miro fútbol, mi piace mirare, trato di sacare lo miglior di cada uno, recien sto arrancando mi carriera, e bueno, trato di mirare a tutti, però sacare lo miglior di cada uno, e tener mio proprio estilo di gioco. Non ha un difensore dove lui mira per vedere come può migliorare, sino che lo fa al contrario, vedi da tutto, vedi tutti gli sport, non solo la Liga Serie A, sino anche la Spagnola, l'Argentina, per poter prendere qualcosa di quel giocatore, di quel difensore. Quindi, in base a quello, diventerà, con la sua esperienza, un grande calciatore per l'Udinese. Isak, hai alle spalle diversi anni di esperienza in Premier League, uno dei campionati principi qua in Europa, quali sono le differenze rispetto al campionato italiano? No, le due leigue sono davvero competitive, e che sono in le top 5 leigue del mondo, sempre saranno competitivi, e sono felice di face a tutti i diversi campionati, con la loro approcci, 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 e la loro atmosfera è sempre diversa, tutto è sempre diversa. È un buon cosa per me, perché ho sempre voglio challenziare a mezzare a fare altre cose in vita e vedere l'ultima. La Premier è sicuramente al pari della Serie A, è una delle top 5 leigue al mondo, e quindi è molto stimolante per lui avere la possibilità di confrontarsi adesso in Italia con giocatori e comunque anche ambienti diversi, perché per esempio anche qui in Italia i tifosi sono diversi, anche quelli dell'Udinese sono più caldi, quindi è sempre bello confrontarsi con avversari, ma anche con contesti diversi nei maggiori campionati europei, come lui ha avuto occasione di fare. E questa è un'altra motivazione ulteriore, perché non vedo l'ora di iniziare a giocare partite con la squadra, anche per misurarsi con il livello della Serie A. Grazie mille ai nostri Isaac Neuen e anche al nostro German che ci ha aiutato con la traduzione. Le conclusioni le affiderei al direttore Marino, direttore perché è anche tempo di bilancio finale, è stata una campagna acquisti importante che ha portato giocatori di grande rilievo come Isaac, giovani come Neuen e non solo, di grandissime prospettive qui a Udine. Intanto devo correggere un lapsus che mi sono accorto subito di aver fatto, perché il passaggio al Granada di Sassess e non certamente di Perez. Detto questo, io sono felice anche di fare un bilancio di questa campagna acquisti, che è stata lunga, lunghissima, faticosa, e sono felice di poter dire che l'Udinese ha raggiunto quello che era l'obiettivo, cioè di voler un poco rifondare e ringiovanire l'intelaiatura, puntando su giocatori giovani di prospettive, come è stato sempre nel DNA storico dell'Udinese, e magari sorprendendo nel tempo con le sue scelte che poi si concretizzano in giocatori oggetto di attenzione di grandi club. Quindi sono felice che si sia ritornato al vecchio progetto Udinese, che è stato sempre quello che l'ha contraddistinta con il grande lavoro del nostro reparto scouting, che è andato sempre a scoprire talenti giovani e proiettati. E sono convinto che tutti quelli che sono arrivati prenderanno parte a questo progetto con grande contributo per l'Udinese ed anche per il loro futuro. Ci siamo rinforzati, come avete visto, in tutti i ruoli e se sarà necessario andremo a completare ancora a gennaio l'intelaiatura oppure coglieremo occasioni che dovessero presentarsi prima. E quindi siamo soddisfatti noi dell'area tecnica di tutto quello che la società ha fatto. E quindi grande positività che ora deve essere trasmessa alla piazza, che finalmente è ritornata allo stadio e si vede il contributo che hanno dato nelle ultime due partite, visto che prima la legge della Dacia Arena si era un po' affievolita con la chiusura degli stadi, in quanto andavamo a fare più punti fuori casa che in casa. Quindi l'effetto pubblico si è visto subito e noi dobbiamo trasfondere con la nostra gente l'entusiasmo di questi giovani e a loro volta questi giovani devono ricevere quella spinta, quell'entusiasmo che il pubblico di Udine sa dare molto bene. Grazie mille direttore, grazie ai nostri ragazzi. La linea può ritornare allo studio.